amici di street buongiorno ci troviamo in via bergamo centro di catania e stiamo fotografando una situazione che ci è stata segnalata dai residenti noi siamo in questa via bergamo perché vedete qua c'è una pista ciclabile c'è una pista ciclabile ecco ve la faccio un po vedere girando su a 360 gradi questa è la pista ciclabile che praticamente dalla circonvalazione si collega alla via bergamo ecco giriamo anche la telecamera così ve la faccio vedere meglio questa è la pista ciclabile vedete di ciclabile diciamo che c'è veramente poco praticamente ci sono degli stalli che la bloccano ci sono delle autovetture parcheggiate insomma questa è una pista ciclabile richiesta non si sa bene da chi perché è una pista ciclabile che riduce ovviamente la carreggiata che non dà la possibilità ai residenzi magari di parcheggiare lo hanno fatto lo stesso perché qualche uno parcheggia lo stesso sulla pista ciclabile che non è di fatto utilizzata non sappiamo perché ovviamente sulla base di che cosa cosa abbia spinto ecco coloro che hanno ideato questa pista noi la stiamo percorrendo anche perché voglio proprio fare vedere vedete la pista con il doppio senso di circolazione la strada che si restringe in maniera esponenziale quasi quasi metà della carreggiata viene adibita a questa sorta di pista ciclabile per perché a catania ci sono migliaia e migliaia di ciclisti di persone che la mattina si alzano per poter raggiungere il centro cittadino in bicicletta cioè veramente quando si dice che a tutto c'è un limite e c'è anche ovviamente da fare una profonda riflessione vedete tra l'altro molto sporca di fatto abbandonata io la sto percorrendo la strada si restringe tantissimo come detto e quando si cercano le possibilità per far defluire il traffico per rendere le strade meno intasate e poi troviamo queste queste chiamiamole distorsioni perché vedete non so da quanto tempo è stata costruita predisposta messa in atto però si vede che è di fatto particolarmente abbandonata e qui nasce poi l'equivoco no dice ma chi è che ha scelto di fare una pista ciclabile in pieno centro cittadino per collegarsi alla circonvallazione a fronte di un traffico cittadino incredibile opprimente devastante che tutti i catanesi e non solo coloro che vivono nelle città limitrofe sono costretti a subire vedete ecco qui c'è tutto il contesto c'è anche il famoso la famosa segnaletica zona rimozione nessuno può parcheggiare però c'è questa strettoia che non serve a nulla non serve a nulla forse la volontà di renderla ciclabile c'è ma per chi che proporzionalità c'è che utilizzo c'è di una pista ciclabile in pieno centro cittadino con il caos di autovettura lo smog cioè uno che vuole andare in bicicletta a respirare un po di aria pulita viene a ciclare come sol dire in questi percorsi ecco questo è come si dice il voler dare una possibilità a coloro che amano girare in bicicletta per catania io francamente devo dire sono in giro da questa mattina non ho visto un solo ciclista eppure c'è il sole c'è ancora il buon tempo ma è andare a spendere soldi e a limitare la città per costruire vedete qua qua c'è uno svincolo hanno dimenticato forse di mettere un semaforo per per dire ai ciclisti che sfrecciano attenzione qui c'è la possibilità di essere investiti vedete e io ho fatto il per gran parte del percorso ma vi voglio accompagnare fino ad arrivare alla circonvalazione perché veramente è assurdo dover testimoniare questa situazione siamo a catania pieno centro cittadino continua percorrere continuiamo a dirvi che non abbiamo visto nessuna bicicletta in giro per catania se non a lungomare e giusto a lungomare si respira aria di mare sia la possibilità di non essere investiti dalle autovetture perché c'è un'area riservata e allora lì forse i ragazzi giovani insomma coloro che amano andare sulle due ruote possono sfrecciare liberamente senza avere difficoltà ecco guardate un po questa pista ciclabile dove arriva la pista ciclabile voluta non si sa bene da chi l'amministrazione comunale la predisposta perché probabilmente ci sono state delle richieste del territorio ci sarà qualche ciclo amatore che abita nelle vicinanze che si è spesa finché questo potesse accadere ecco vedete stiamo salendo dalla pista ciclabile vedete cioè sporca quasi abbandonata però c'è e restringe la carreggiata questa è un'importante strada che va a collegarsi con la circonvallazione quindi nei momenti della scuola nei momenti che c'è massimo massima predisposizione alla traffico invece di migliorare le arterie renderle più fruibili creare i sovrappassi creare i sottopassi creare i presupposti per far sì che la gente che lavora a catania o che raggiunge catania possa essere messa nelle condizioni di poter avere tutti gli agi o quantomeno per cercare di limitare i danni creiamo le piste ciclabili piste ciclabili che poi non vengono utilizzati da nessuno forse in questa pista ciclabile da quando è stata creata sarà passato un ciclo amatore magari un uomo che fa trial che fa il fuoristrada perché vedete è bello vedere il colore azzurro e la striscia bianca che delimita diciamo il doppio senso di circolazione nella pista ciclabile vedete io sto continuando a salire di fronte a me c'è via santa sofia da lì si raggiunge il pronto soccorso del policlinico ecco io sono arrivato alla fine della pista ciclabile e sono sulla circonvalazione ecco da qui qui finisce la pista ciclabile e qua c'è la circonvalazione forse questa pista ciclabile probabilmente continuerà sul marciapiede per arrivare che so annesima però ecco la domanda è ma è giusto adottare questi sistemi in pieno centro cittadino pregiudicando ulteriormente la possibilità di defluire il traffico perché questa è una strada che ora si è diventata ad una corsia perché c'è la pista ciclabile poteva essere a due corsie perché da qui arrivano molte auto dal centro per rimettersi nella circonvalazione vedete ecco questa è la situazione che questa mattina abbiamo voluto testimoniare anche perché voi ci avete mandato delle richieste delle mail di spiegateci perché c'è questa pista ciclabile non utilizzata particolarmente abbandonata a che serve ecco in pratica uno con la bicicletta dovrebbe arrivare qui parcheggiare non so dove perché non ci sono parcheggi arrivare qui magari con una rastrelliera porta biciclette qua sul marciapiede in quest'area e poi scendere con la bicicletta in discesa fino ad arrivare come abbiamo visto alla via giù in fondo queste sono le famose distorsioni le piste ciclabili sono utili indispensabili fondamentali diremmo anche necessarie quando servono per far sì che la gente possa liberamente scendere in bicicletta parcheggiare la propria auto e avere l'opportunità di fare diciamo passare la sua mezz'ora la sua ora con la bicicletta ecco vedete qua siamo in un crocevia molto importante come vedete anche l'ambulanza siamo nei pressi del policlinico quindi del pronto soccorso e questa è come sempre la affollatissima circonvalazione e questa una diramazione nei giorni scorsi avevamo parlato anche degli stalli che presudicavano l'ingresso alla circonvalazione che i residenti del quartiere hanno più volte sottolineato fosse importante levarli per dare la possibilità di girare e salire sulla circonvalazione ebbene ancora questo non è stato fatto però noi siamo con la pista ciclabile in pieno centro cittadino in discesa una discesa repentina e che probabilmente per qualche scienziato della viabilità è indispensabile per far sì che anche catania possa dare servizi che diciamo alcuni cittadini pochi in verità chiedono perché come detto di biciclette abbiamo visto solo quelle stampate qui per terra che sono un segnale indispensabile per far sì che coloro che in auto raggiungono i posti di lavoro possano evitare di investire investire chi non si sa perché ripeto non c'è nessuno ma è chiusa questa pista veloce in questo momento è stata realizzata limita il traffico cittadino senza pochi problemi però vedete abbandonato chiusa chiusa al traffico al traffico dico dei ciclisti però vedete continuando a scendere ho fatto tutto il percorso il percorso di questa strada che è stata adibita a pista ciclabile limitando anche come detto ampiamente il traffico questa è una piazza dove qualche duna è anche parcheggiato ci sono anche sacchetti di fatto ancora abbandonati probabilmente sono il frutto della raccolta di foglie e anche di polvere labica ecco vedete qua c'è il restringimento di fatto qui si interrompe per qualche metro la pista ciclabile probabilmente bisognerà poi scendere dalla bicicletta passare dall'altra parte e continuare per arrivare in basso ecco questo è un servizio che viene dato a tutti coloro che vogliono andare in bicicletta quindi il nostro compito questa mattina di fare servizio pubblico avvisare tutti i catanesi che non solo i catanesi che c'è questa arteria che consente di arrivare qui e farsi la passeggiata in bicicletta poi se c'è smog insomma inquinamento atmosferico c'è qualche problema anche di traffico non è importante importante che voi non so in che percentuale potrete sfrecciare con la vostra bicicletta magari raggiungendo il vostro anche posto di lavoro perché no così come fanno in altre città nel mondo dove però ci sono servizi strade quattro volte questa dove c'è la possibilità di trovare anche i vigili che vi danno delle indicazioni dove ci sono i punti di ristoro insomma dove c'è aria pulita e questo è signora lei passa da qui perché è più garantita è una pista ciclabile questa lei non va in bicicletta ma che idea si è fatta del fatto che nel deserto assoluto c'è questa pista ciclabile in effetti un po è un po stonante penso di sì perché non vedo biciclette in questa zona lei non ha figli parenti che vanno in bicicletta io ne ho una che è andata in bicicletta per tantissimi anni e infatti adesso ha mezza idea di riprendere ma non è giusto andare in bicicletta nelle zone dove si respira aria pulita che sono lungomare dove si è garantiti qua in mezzo al traffico cittadino poi tra l'altro si è ristretta questa strada e anche l'altra non so se sia stata una scelta giusta ma lei comunque qua è garantita per questo diventa una sorta di marciapiede quindi lei può camminare tranquilla nessuno la investe ma nemmeno le biciclette perché non ne abbiamo vista nemmeno una grazie buongiorno ecco vedete anche i residenti sono basiti perché diceva questa pista ciclabile a chi serve a cosa serve quanti sfrecciano per questa strada in bicicletta sempre la domanda che noi ci poniamo questa ovviamente è anche abbastanza ironica perché fare una pista ciclabile quando mancano i parcheggi nelle vicinanze quando mancano i servizi pubblici che funzionano quando mancano i controlli è paradossale sì si vuole scrollare di dosso un'apatia del passato pensando di fare qualche cosa di importante per fare un po come tutte le città che puntano al benessere dei propri cittadini andate in bicicletta evitate i mezzi sì evitiamo i mezzi però metteteci i mezzi pubblici i parcheggi insomma quei servizi propedeutici al fatto che servono per far sì che la gente possa andare in bicicletta qui non siamo che so per fare un esempio a chiavari in liguria dove tutti anche le nonnine e i nonnini viaggiano in bicicletta perché ci sono gli stalli dove parcheggiarla dove non farsela rubare dove andare a fare anche la spesa insomma questo accade in molte città d'italia ma a catania in questa situazione e lo chiedo alla politica lo chiedo agli amministratori era corretto pensare di fare una pista ciclabile qui piuttosto che so che fare dei parcheggi per gente che poi deve scendere in città e è corretto forse sarebbe stato più opportuno pensare che magari le piste ciclabili possono essere fatte nelle zone di mare nelle zone boschive nelle zone dove la gente può sfrecciare in sicurezza senza travolgere nemmeno passanti ecco siamo tornati alla base siamo tornati alla base abbiamo concluso anche questo spazio di approfondimento e allora io voglio come sempre ringraziare tutti voi per l'ascolto vi esorto a continuare a scrivere a scrivere a redazione chiocciola spazionotizia.it arriveremo con le vostre con le nostre telecamere arriverò io direttamente per testimoniare quanto accade so che avete scritto anche da altre città della sicilia è chiaro che ci stiamo organizzando ma raggiungeremo anche voi che siete molto lontani perché vogliamo fare come detto in apertura servizio pubblico lo vogliamo fare con street grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento